10 luppoli le bollicine, bionda e rosè, oggi nel cuore di Roma Andrea questa sera che cosa ci hai preparato? Allora questa sera rosettine con la porchetta di aniccia e filetto di baccalo a freddo Benissimo, quindi con la porchetta che cosa avvigniamo? Sicuramente la bella rosè E con il baccalà? La bionda Allora io adesso vado a sentire cosa ne pensano Con il baccalà pastellato rosè o bionda? Bionda Questo panino con la porchetta o un bicicletto? Tu con cosa avvini? Ovviamente con la rosè 10 luppoli le bollicine, bionda e rosè Accoppiata vincente Ciao Roma!